Non è tanto tempo, vi prestiamo tutto, ho detto che vi prestiamo tutto, ma quanto di quanti l'antipatia mi ha visto? Vado solo con mia figlia. Stiamo scendendo, magari un attimo se a sinistra per la, o se a destra, o se a sinistra, o se a sinistra, o se a sinistra? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Luca. Grazie a tutti. Andiamo. Andiamo. con la...